Si parla molto in questi giorni di un disegno di legge che trasforma il modo di vedere e di vivere della disabilità e si parla della creazione di un fondo che consente di accrescere l'autonomia nelle persone disabili. Un percorso che a Biella è stato fortemente anticipato dall'Associazione Dopo di Noi a voler realizzare questo percorso 13 anni fa Don Egidio Marazzina e Paola Brocca. A un certo punto ci siamo posti il problema perché noi erano già 22 anni che Loredana era con noi, ci siamo posti il problema di cosa sarebbe stato per Loredana Dopo di Noi perché lei arrivava da un istituto. Quindi a quel punto lì, volendo comprare casa, abbiamo pensato che era importante comprare due alloggi perché uno doveva essere per Loredana e abbiamo iniziato questo cammino. Quindi prima di tutto una casa che abbiamo investito e questa è una cosa importante perché abbiamo investito sulla persona Loredana credendo in lei e credendo poi con gli altri ragazzi perché la cosa fondamentale è credere che questi ragazzi hanno delle cose dentro. E quindi si investe, si investe in tempo, si investe in amore, si investe in soldi, si investe in fiducia perché se non ci si fida di loro non si può andare avanti. Questo è stato il primo investimento. Poi abbiamo attivato un vero e proprio percorso di autonomia e in questi 13 anni questo è il risultato di questo percorso. Loredana è arrivata da noi e sapeva tre parole, per cui eravamo sicuri perché l'abbiamo visto trasformarsi in questi anni che era con noi. Il Padre Eterno che non ha fatto della gente malmessa ma ha dato a noi la possibilità di far crescere delle persone che dentro hanno queste cose ma che non sono capaci di tirarle fuori e che non hanno la consapevolezza di averle è la cosa più importante che si possa avere nella vita. Io sono arrivato alla conclusione che non è vero che abbiamo tanti disabili, abbiamo tante persone diverse, delle persone che hanno altri punti di riferimento che non sono i nostri. Però noi abbiamo difficoltà a uscire dai nostri schemi. Ed ecco che allora nell'alloggio di strada Marghero a Biella, arredato per l'indipendenza, hanno iniziato a vivere quattro giorni la settimana Daniele, Cristina e Loredana. La mattina fanno tutti e tre un'attività di volontariato, mangiano alla mensa, si muovono in perfetta autonomia con i mezzi pubblici e poi al pomeriggio raggiungono Villa Pettinengo per fare le attività di laboratorio che li rafforzano in capacità e autostima. Alle 16 tornano a casa e nella loro casa, nel loro appartamento vivono in totale autonomia. Daniele, ciao. Allora, ho visto questo bellissimo ritratto della Casa Delfino. Si sta bene qua dentro? Sì, si sta bene. Tu al mattino ti alzi, fai colazione e poi che cosa succede? Porto la bambina a scuola. Tua sorellina? Sì. Quanti anni ha tu sorellina? Quattro. Prendo il puma, otto un quarto e vado all'oasi. All'oasi che avanza. Quindi per me tu ti occupi delle persone anziane? Sì. Lavoro le tazze come arrivo, poi porto fuori gli ospiti a vedere un po' di televisione. E loro sono contenti di vederti? Quando ti vedono cosa dicono? Sono contenti. Sono contenti? Porto sotto le attività, li porto sopra, poi vado su a Pettinengo. E a Pettinengo ovviamente c'è un po' tutte le attività che tu svolgi. Quindi che cosa fai? Teatro? Teatro, pittura, psicomotricità. E che cosa ti piace più di tra le tre cose? Cosa preferisci? Mi piace di più la pittura, mi piace di più la psicomotricità. Con Cristina e con Loredana questa realtà, che cosa ti dà? Energia mi dà. A casa tu vai nel fine settimana con la mamma e la sorellina? Sì, venerdì, sabato e domenica. E aiuti la mamma e la sorellina anche? Sei l'uomo di famiglia? Ciao Cristina. Ciao. Un sorriso che è contagioso. Ah, io sono sempre solare. Se arrivano qui ai nonni, arrivano le otto, io gioia. Baccia mio amore. E io sono anche figlia. È una vita nuova oggi. Tu hai avuto un aneurisma, vero? Perché prima, insomma, la tua vita era normale? Sì, ero. Io ero anche tre volte in Trabbrica. Poi passatezze. Ero sposata, c'è più più. E' stato mio amoroso di giugno, puro per terra. All'improvviso questo aneurisma ti ha cambiato la vita? Non bevemo, così. Poi ho fatto in coma. Poi ho fatto tante ginnastiche, scrivere, parliamo. Poi un anno era a casa. Papà sono io, il mio papà. Ecco. Oltre ovviamente a vivere qui in comunità con Daniele e Loredana, tu al mattino ti occupi delle persone anziane. Arrivo le otto, Cristina, sì. Ma sei arrivata? Sì, arrivo. Aspetta, aspetta, arrivo. Allora, sono felice. E poi, signora, devi fare latte e caffè. Al cerino Zegna, vero? Sì, poi le farfiglie. Guarda, qui il cortello, piano piano, fuori un po' di latte, sì. Ti dici, devi fare la pipì. Eh, io gli aiuto. La mensa, poi il fulma, il petimengo. E anche tu a quel punto teatro, ovviamente tutte le attività. E mi piace anche colorare, è anche puttroce. Allora, Loredana, in questa casa, in questa autonomia, tu che cosa hai raggiunto, che cosa senti di avere rispetto a prima? L'autonomia per l'ostacco della famiglia, esempio, per non c'è più, è mia mamma, è non c'è più per papà, per tutti e tre noi facciamo famiglia, esempio la Cristina, esempio il Daniele e poi io. per la Fatima e poi c'è la Manuela, per il nostro progetto, per arrotarsi i miei amici, per accogliersi. Noi abbiamo visto nella tua camera, nella camera che dividi con Cristina, tantissime medaglie. Perché tu veramente sei campionessa più volte di nuoto, vero? Sì, è vero. Ma è uno sport che ti piace tantissimo? Sì. Al nuoto vado sempre. E lo sport mi aiuta, mi aiuta di vivere. Fatima, ad aiutare i ragazzi ci sei anche tu? Sì, ci sono anch'io, sono con loro tre ore, ogni giorno sono con loro tre ore, sì. Ti racconti un po' veramente che cosa rappresenta a livello emotivo proprio questa loro esperienza, questo loro progetto, come diceva Loredana. Ma questo progetto rappresenta per loro tanto, perché si rendono conto che sono grandi, che possono appoggiarsi uno sull'altro, che possono fare le cose da soli, che sono autonome. E per loro gli dà una luce sul futuro, che possono vivere da soli e ambito familiare. Perché realmente comunque loro portano avanti la loro quotidianità da solo, tu sei solo lì, probabilmente come un po' supervisore. Sì, sono lì che più che altro li aiuta a organizzarsi magari un po' di più, ma se no fanno tutto da solo. Anche te provocano delle emozioni? Sì, sì, guarda io sono molto contenta di fare parte di questo progetto, perché mi danno anche molto gioia vederli così, che si collaborano, si aiutano, danno lezioni a noi che siamo... Allora vederli come si collaborano, come si aiutano tra di loro, uno accetta l'aiuto dell'altro senza pregiudizio, senza niente, e uno va all'aiuto dell'altro senza neanche l'altro che chiede. Questo danno proprio lezioni a noi. Poi quello che fanno anche al di là fuori di questo alloggio, perché loro aiutano altre persone nel loro lavoro di volontariato, fanno tanto con gli anziani, fanno tanto, perché loro danno un calore umano agli anziani, danno tanta gioia, apportano tanta gioia agli anziani lì. Quanto a volte magari guardi la loro vita quotidiana, penso che a volte veramente ti viene un po' la commozione nel vedere. È la cosa più bella questa, è la cosa più bella che può aspettarsi una madre, perché io mi sento tale, ed è la cosa più bella che può aspettarsi una madre. avere veramente questa sicurezza. Perché tu sai che hai visto tuo figlio diventare una persona e può stare in mezzo agli altri. Come uomo e anche come prete, questa esperienza che cosa ti ha dato? Mi ha dato tante cose. Mi ha fatto uscire da un mondo assolutamente clericale, perché mi ha fatto entrare in un mondo che è un mondo della vita, che è il mondo della sofferenza di tutti i giorni, del cercare di camminare insieme agli altri, anche quando è molto difficile. Questo certamente. E quindi una gioia immensa. Una gioia immensa. In this world you tried Not leaving me alone behind 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 Not leaving me alone behind